La sede di Esatto e dei servizi sociali, Cantamessa che ha messo 20 milioni, che sta facendo l'albergo e il museo del ferroviario. Via la piscina terapeutica, la facciamo nuova, parte il parco del mare e oggi consegno il sigillo a Paoletti perché ci ha creduto per 20 anni, è andato avanti per 20 anni ma ce l'abbiamo fatta. E naturalmente poi lo spostamento del mercato autofrutticolo e l'autorità portuale che vuole chiudere il varco per cui quella zona diventa completamente nuova.